E' ora la nostra Rosanna Paroni Bertoia. Già arrivata, sì. Nata e vive a Montereale Valcellina, presidente del circolo culturale Menocchio e ha coordinato con Antonio De Biasio il sottessore a poesia. E' romana, Antonio. Ed è nella giuria del premio letterario Malattia della vallata. Rosanna Paroni Bertoia. Grazie. Grazie. E leggo, così, improvvisando un po', e leggendo anche qualcosa di inedito, che sono curiosa di vedere che appoglietta, può avere cose scritte recentissimamente. Comincio da un libro pubblicato dalla Biblioteca di Pordenone. E' un libro che vede Giacomo Vito, Antonio De Biasio, Silvio Ornella, eccetera. Che amo in modo particolare, perché a volte a raccogliere una sorta di racconto in verso, riguardante i miei amici, i miei figli, la mia vita attorno al Monte Parra. Ha una bella presentazione di Aldo Colonevo, che ha la caratteristica, questa presentazione, di essere accurata, di essere veramente cordiale, ma di tirare dentro, non solo me, come autrice di queste poesie, di questi racconti in tutta mia vita, ma di tirare dentro il contesto in cui io ho fatto poesia, in cui assieme ad altri, all'ambiente, agli amici, i poeti, in modo particolare, che lui presenta in questo contesto, anche per unire quella che è la mia poesia, la poesia loro, agli influssi reciproci, agli influssi dell'ambiente, del paese, degli affetti. Ecco, io leggo qualcosa di questa presentazione, poi qua e là, qualche poesia da altri libri, più o meno recenti. Incomincia con questa cosa, in Dato si intitola Un quartile pieno di vita, raccoglie due parti, due poemetti, uno appunto attorno al Monte Parra, che è un po' una mia biografia, in qualche modo, degli affetti, dei luoghi, degli ambienti, eccetera. E poi, un'altra, attorno a un paio di calzettoni, che diventano un po' l'emblema di questa quotidianità casalinga, della famiglia, fatti da lavorare a maglia, da mia mamma, utilizzando lana vecchia, e che hanno fatto, lasciato un po' di tutta la catena dei miei nipoti, nel giocarci con questi calzettoni. Quello è il contenuto. Questa presentazione, però, appunto, come vi dicevo, è molto bella. È la fatica di bella del più greco. Incomincia dicendo, il forte aggancio effettivo e nello stesso tempo disintattato ai luoghi di appartenenza, è uno dei modi di essere di Rosanna Paglia, e del farsi della sua scrittura, sia in poesia che in prosa, come una non marginale componente di ariosa spensiratezza. E ricorda una mia poesia, abbastanza recente. La leggo. Leggo prima la parte in italiano. Preferisco fare così, dare senso e lasciarvi col gusto che si ha quando si ascoltano poesie in altre lingue. C'è qualcosa che resta dentro forse meglio che fare contate. Provo. Allora, il sasso levigato che salta sull'acqua, sapete, quando si lanciano le piedi abbiate a pelo d'acqua, non conosce il braccio che ne ha accompagnato lo slancio a pelo d'acqua, fra incasfatture e aria, un velo, il sorridere, fra mano e acqua. Lo è un po' male affettata. La stagia che salta dall'acqua, alasà, albrass, cala accompagnata, a pelli di aria va fra crespo e aria, un velo, a riusà, fra mano e aria. E poi va avanti, e va avanti, e proprio tirando dentro questo contesto, l'ancoramento ai luoghi è, per limitarsi ai poeti dell'angolo morsealino e della piede montana del Friuli occidentale, elemento caratterizzante anche di parte della poesia di Antonio Lebiageo e di Benofignon, che sapete voi, è in particolare di quella di Federico Tavan, poeta di Andreis, e di quella di Lionelo Fioretti, di Bagnarola, di Sesto Regena, cioè della Passa, che ha trovato a Monte Reale, a ridosso delle montagne, amicizia e affettuosa collienza, generosamente ricambiabile. È Lionelo Fioretti, ci è rimasto nel cuore. E proprio per un tributo a Lionelo Fioretti, che nel gruppo Amerikoschi è stato uno che ha partecipato, un estrematore eccetera, leggo una sua poesia, anche perché è un omaggio alle donne. Vedo questa bella signorina, con molti, 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 molti anni di meno di me, che è l'unica rappresentante da questo forte gruppo di poeti maschi. Allora leggo questa poesia, così anche mi piace ricordare Lionelo Fioretti, che era un bravissimo poeta, pittore, un grandissimo amico. E si intitola Le parole. Le parole delle donne non hanno angoli retti, ma colline. ronzirvate contro le trasparenze di vetri. Non spiegano, sanno l'incastro della stella come il cielo, toccandola la dice. E poi ritorno un po' a quello che dice così la presentazione, riportando per esempio anche questa poesia, che vi leggo in omaggio proprio al paese dove io ho sempre vissuto. Radicata lì. E' una poesia che è piaciuta parecchio anche ai bambini, ai quali presso le scuole dove sono andate parecchie volte, medi, elementari, anche superiori, a fare qualcosa di poesia triurana. E questa è una di quelle che ci sono sempre state apprezzate dai bambini, anche i piccoli. Prima di cena, cioè, è quello che io provavo, provo anche adesso un argomento perché è cambiato un bel po' nel camminare per i paesi nel giro di vent'anni, e voi lo avete verificato, penso, tutti quanti, però è rimasto insomma il fondo di questo. Cioè, per camminare nel mio paese abbastanza solitario, un'ora verso, così, verso la notte, c'è questa sensazione di accoglienza per me, da parte delle case, il mio paese, insomma, che mi prende, che mi lascia volare. Non voglio tradurla letteralmente, penso che sia comprensibile lo stesso. Ciamine nel mio paese prima di cena, e a parte che li chiasi e mi aspetti. Parle nel mio paese prima di cena, e a parte che li chiasi e mi ascolti. Suole nel mio paese prima di cena, e a parte che li chiasi e mi chiami. che mi prendono, proprio. Ecco. Poi va avanti, e così, non la leggo, ovviamente starei troppo lungo, leggo solo un tratto, appunto, quello, poesia femminile, sempre per ritornare un pochino l'importanza alla parte femminile di questa serata. Poesia femminile, quella di Rosanna Paroni-Bertoia, che si pone con una sua autonoma rilevanza, accanto a quella di novella cantandosa, di Navarro di Meduno, di De Valle Rugo, Meduno, di Bianca Borsatti, Clau, e, emergente, o ancora dietro le quinte, di Lia Burigana, Rizzo, che è la moglie di Aldo Colonello, di Luigina Lorenzini, Vito D'Asio, di Giuseppina Tunno, Maniago, e di chissà quante altre voci nascoste, eccetera, eccetera, dice altro. Se avete modo di incontrare questo libro, leggete molto bene questa presentazione. Ecco, a proposito di Maniago, ho detto, andare a Maniago, non leggere una poesia che nomini Maniago, non mi pare giusto, quindi dedico a Maniago con una poesia del primo libro, risalente ancora all'80, che è stato premiato dalla società filologica nel concorso, da Maniago. Venendo da Maniago, vedo così ho l'immagine di una suora con le gonne sventolanti, era di marzo, c'è qualche fione lungo la strada giallo, e procedendo verso il Monte Reale per la vecchia strada, vedo aprirsi la grada, cioè il gretto, e già mi questo mi dà l'idea che stiamo uscendo dall'imbergo. Da Maniago, per la strada griglia, venendo da Maniago, non unio a sventolare l'aria del mar, e qualche bottone giallo accuca tra le ambarze del fossale. Ma dopo la svoltata, la grada ha pespato l'angoli soquartis, per sì, faù dell'inviere, ciò non avvolta. E questo, e lo mangio a Maniago. E adesso potrei leggere qualche altra poesia presa da Sviste e Sorelle, che è il libretto che fa parte di quadri di Menocchio Poesia, e che ha accolto la ricca, bella raccolta di Antonio De Biagio, che, non vedo dove è andato a finire, ecco la ragione, sì, che è stato letto a scuola di grande e abbondanza, proprio perché sono veramente poesie che restano, che colpiscono. Ecco. Leggo qualcosa un po' un po' a caso. Potrei leggere una a proposito di mio nipote, primo nipote dei sette che ho, Cugnatovo, che abita qua a Maniago, ma abbastanza vicino, e col quale siamo andati in cima a il quaderno ancora piccolo, tre anni, in cima a Montespia, e salendo, io raccoglievo fiori, ne facevo un mazzo, lui, sapete i bambini, che nel raccogliere fiori, colgono solo il capolino, naturalmente, e si cadeva, no? Quindi, voglio questo aspetto, ho messo così, in evidenza, come dire, l'aspetto educativo del confronto. Ecco, lo so, se si capisce senza tante traduzioni. super, super, non spia, c'è minen, c'è minen, anche se l'erba, hanno il riso e ada, e sono altri, li provo, inta la cima, e dopo, e dopo, al cura flus, che senza male, il colo, e che cura la nonna, il fammas, lui, al misurale di differenze, e al pres. Ecco, non so quanto tempo ho a disposizione, sono fatta troppo lunga, per, così, ritornare al discorso di Maniago, faccio presente, non so se millenze si ricorda questo libretto, che esce proprio da Maniago, l'esperienza di Friulano nella scuola di Maniago, e che abbiamo realizzato proprio alla fine di un corso di Friulano, e che raccoglie, appunto, poesie, anche di bambini, molto belle, o scritte direttamente, Friulano tradotte, e poi, poesie che confrontano, parlate, non solo sui bambini, ma anche, dei vari bambini presenti di altre nazionalità nella classe, quindi una forma di plurilinguismo in poesia, o in ricerca di poesia, non ho tempo di leggere, e leggo qualcosa di inedito, inedito pescato così alla riporsa all'ultimo momento, di queste letgo proprio la traduzione in versi, questo per esempio, a reverse, a ritroso, a ritroso vado come un fiume che scorre, con un batterio col vecchio e i giorni che si spengono, a reverse, vai come un flù al va reverse, con un batterio, a pelle di armi vai, raccogliano col vecchio, i dei sere studano, insonnia, succede, non c'è questa, anche prima, ma insomma, ed insonnia, sassi di notte, naturalmente ci si alza, io mangio qualcosa, pane, burro e zucchero, le briciole, poi per il mervo e le galline, tre, che hanno l'orto, e ti riscaldano gli occhi a vederle razzolare, su e giù per l'orto, l'orto, e su un uro di sassi, che corre ancora sicuro lungo la strada, verso le montagne, dietro il giorno che va, e che domani ritorna. Un'ultima, penso di aver esaurito nel mio tempo di esposizione, no, una penultima, dai, quest'altra, che non ha neanche la traduzione, questa cosa che devo rivedere, ma che comunque è così, voglio leggere lo stesso, e io, dal fondo del fondo del muoio, la tela derai, con tanti votutis, del ploio, e temporale, e nulis, sono i pitturis, dal calico dei james, sono i orbutis, dai murs, delle strade, e io, dal fondo del fondo, io che vai, io parlo posto, il brasalà, che l'ole, fin tal'ole, degli uomus, io, se so io, e parlerà, e dopo, e la tela derai, e li votutis, dovrei tradurla, nel fondo del fondo del nulla, una tela di rana, con tante goccioline di pioggia, e temporali, e nuvole, sono pitture, nella nebbia degli anni, sono erbette, sui muri, di le strade, e io, nel fondo del fondo, io che vado giù, per via croce, Antonio Salone, cui braccia l'arco, e le braccia l'arco, e l'occhio, fino all'orlo, e la mia, cosa sono io, cosa sono io, e per via, e dopo, e la tela di rana, e le goccioline, poi, c'è questa in italiano, così, tanto per dare, sono un intervista in italiano, che bello, questo inverno, che ti scrive, rubi assolate, sul volto, e fitte parole, al caffè, fra amiche, indifferenti, e a chi si chiede, cos'hanno, queste vecchie befalle, da tanto gioire. La prossima autrice, come diceva Rosanna, uniche due donne, però a mia difesa, a nostra difesa, diciamo che le abbiamo messe centrali, nell'evento, quindi una certa importanza c'è, è Erika Alberti, Erika Alberti, di Bordenone, vive al Cordenons, laureata in antropologia culturale, e sta proseguendo, il suo percorso di studi, appassionata di teatro, appassionata di teatro, ha partecipato, a un corso del nostro, cioè, dire nostro, Fabio Scaramucci, di Orto Teatro, che è un'icona ormai, provinciale, ma non solo, e che oggi, sentirete anche un'altra volta, sempre nell'ottica, di questo incontro, ritrovo, che alla fine è la fila, infatti oggi avete sentito il Sopsoora Poesia più volte, avete sentito le pubblicazioni con autori che si ritrovano oggi qui, e che hanno pubblicato insieme, è appassionata, ripeto, di teatro, ha eseguito questo corso con Fabio Scaramucci, un corso biennale a Bologna, e ha partecipato anche ad alcune commedie, come poetica, come autrice, è mezzordiente, non pubblicata, noi l'abbiamo conosciuta con il concorso, il premio, Mario Momi, e ricadenti. Eccoci qui, allora, vi ringrazio tantissimo, è un onore essere qui, in mezzo a grandi poeti, io sono esordiente assolutamente, quindi insomma, vi propongo queste mie poesie, e niente, ho conosciuto Alessandro grazie ai piccoli principi, cui ho partecipato come curatrice, e niente, quindi adesso ho scritto queste poesie che sono arrivate in modo particolare, perché non le ho cercate, diciamo che sono emozioni di cose provate, esperienze a volte di viaggio, a volte emozioni mie, e appunto, come ripeto, non ho cercato le parole, le parole mi hanno rincorsa, quando stavo provando questa emozione, e spero che vi piaccia. acqua cristallo, lagui di ormeggi, riflettono zone di destinazione lamento, ma il diametro della cima, ormeggia senza più sentenze, e il cuore di metallo, è più vivido che intenso, giunto al tramonto. fervide emozioni, trassudano di sole, e smarrite dunque, tra piedi, soli, nell'atterrare il disturbo, del pianto, cemento. lontani emni di luce, nell'oscura ripopolazione, fiorita di creature mai viste, dai lunghi fili di nervi, mai stesi, però consolati, come i panni, bagnati, poi caldi, a Venezia. Dimenticatorio di emozioni, questi anni di giorni, di neve e sudore, sale d'occhi, in pianti, più felici che malinconici, seppie, di tristi, intrisi, un caciucco, al nord-est. Big Bang, Bing Bang, Bugs Bunny, e tormi di rondini, arrivate per caso, su un filo elettrico di stazione, in ascolto, felici d'essere, seppur metallizzate, rigonfiate, indebolite, solidificate, in notturne. dai capelli ai piedi, di fagioli, neri, ramolliti, in tinozze, da bere al mattino, perché, non fa più colazione, con le stesse parole, ingiallite, dal passare delle pagine, dell'elenco telefonico, dimenticato, anch'esso, in cantina, come gli altri remagi. Più stufa che pirostofo, quest'emozione di salsedine, ghiandole, infervente di venire, tra le fauci bagnate, di leggende raccontate, mai vissute, impaurite, come spaventapasseri, invecchiati, al calare del granaio. Illumina bianco stellato, persone di marmo lucente, appoggiate al semaforo di strada, in ascolto, lontano, domando le onde ultraviolette, e le emozioni, radiazioni future, in espansione, su di noi. morbidissima la sera, di foglie, e carte masticate, poi sputate, riviste, riaddomesticate, fatta pace con le somme coinvolte, s'amunisce, come biscotti di sera, pregati, e taciuti. luce di luna, in dinamica di venire, di bellezza, disarmante, la sera, di giubilo, di folle, nell'adagio dei colli silenti, o d'armadi ricolmi vintage, è un po' no. batteri in ceramiche sgretolate, all'ora del tè, sorseggiano immancabili, nell'incomiato asilo, sussurri di labbra, soffendono al calore, bruciante, di un non detto, ovvio tormento. ricordi obliqui, di un mirigio aranciato, di foglie, di reame, di panarsi, appersi all'orizzonte, ma tu non c'eri, c'era l'ombra del ricordo, nella speranza ruccicava, una tua solare memoria. L'ultima. Cortili bianchi di polvere e gocce di sassi correvano senza più fermarsi i cipressi nel loro verde ombreggiare di lamenti. Poi di colpo il profumo di mene ricoperte dai feltri tessuti olfattive in osmosi e riposare poi d'incanto.